Breve saggio sulla Divina Volontà Tratto dagli scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta Ciò che ti dico sul mio volere non è altro che lo svolgimento del nostro decreto, fatto Abba Eterno nel concistoro della nostra Trinità Sacro Santa, che esso deve tenere il suo regno sulla Terra, ed i nostri decreti sono infallibili, nessuno ce li può impedire, che non vengano effettuati. Come fu il decreto della creazione e della redenzione, è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla Terra. Gesù a Luisa Piccarreta il 2 ottobre 1938 Premessa Il presente fascicolo è costituito da alcuni brani tratti dal diario, proposti come semplice lettura ed iniziale approccio ad un contenuto dottrinale quanto mai vasto. Non ha finalità di trattazione organica, è solo una proposta, o quantomeno uno stimolo ad una umile curiosità, per un ulteriore approfondimento degli scritti sulla dottrina del divin volere. Luisa Piccarreta è nata a Corato, nelle Puglie, Italia, il 23 aprile 1865 vi è morta il 4 marzo 1947. I suoi scritti sulla Divina Volontà possono essere distinti, anche se impropriamente, in due particolari gruppi. Scritti che possiamo definire opere monografiche. Scritti relativi al diario della personale esperienza mistica Nel primo gruppo rientrano i due libri Le Ore della Passione di Nostro Signore Gesù La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà Il primo è la meditazione, con riflessioni, delle ultime 24 ore della Passione di Gesù Il secondo raccoglie 31 meditazioni con preghiere sui misteri di Maria Santissima, alla luce della Divina Volontà Entrambi i libri sono stati diffusi in varie edizioni a partire dal 1920 Sempre nel primo gruppo si possono comprendere molti altri scritti quali preghiere, inni, invocazioni, alcuni brevi, altri più articolati come il pio pellegrinaggio dell'anima nell'operato della Divina Volontà A sé sta il vasto epistolario, fonte di notizie biografiche e di proposte di meditazione sulla dottrina del Divino Volere Il secondo gruppo, di gran lunga e il più ampio, comprende il diario dei colloqui mistici dal 28 febbraio 1899 al 28 dicembre 1938 Comprende inoltre una prima parte esposta in forma di narrazione, relativa alla personale esperienza mistica negli anni precedenti il 28 febbraio 1899 Il diario è costituito da 36 grossi quaderni personalmente manoscritti da Luisa Piccarreta, parte dei quali ricopiati e dattilo scritti in alcune copie da persone intime e devote E il diario quasi giornaliero, scritto per assoluta obbedienza, di quanto le viene personalmente rivelato sulle conoscenze della Divina Volontà e sul vivere nel Divin Volere, scritti solo parzialmente pubblicati Sono affogato dall'amore. Vengo a portarti il più gran dono, vengo ad insegnarti come vivere nella mia volontà Vengo in mezzo a voi col cuore soffocato nelle mie fiamme d'amore, vengo come padre in mezzo ai figli teneramente amati, per stare con voi, per vivere con voi mediante una sola volontà, un solo amore, vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere e della mia stessa morte Guardatemi, ogni goccia del mio sangue, ogni virgola tutte le mie opere, i miei passi, fanno a gara per darvi la mia Divina Volontà, persino la mia morte vuol donarvi la resurrezione della vita Nella mia umanità tutto vi ho preparato, vi ho impetrato grazie, aiuti, luce, forza per ricevere un dono sì grande Per parte mia tutto ho compiuto, ora aspetto la parte vostra Chi sarà così ingrato da non voler ricevere me e il dono che gli porto Sappiate che è tanto il mio amore che io non terrò conto della vostra vita passata, seppellirò nel mare del mio amore le stesse vostre colpe, tutti i vostri mali, affinché e siano tutti bruciati Incominceremo così insieme la nuova vita, intessuta soltanto di volontà mia Chi avrà cuore di darmi un rifiuto? Se mi accoglierete, io rimarrò con voi come padre in mezzo ai suoi figli, per vivere sempre uniti in una sola volontà Oh, quanto sospiro e bramo che i miei cari figli stiano sempre con me e vivano nella mia stessa volontà E' da circa 6.000 anni che io reclamo e voglio i figli miei attorno a me per renderli felici e santi Il mio amore giunge perfino a soffocarmi e a farmi spasimare, perciò tra i singhiozzi e i dolori ripeto a tutti, figli miei, figli miei, perché non venite al padre vostro? Perché andaste lontani da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie I vostri mali sono ferite al mio cuore ed io sono già stanco di aspettarvi Perciò, non potendo più contenere l'amore che mi brucia, vengo io stessa a cercarvi ed a portarvi il gran dono della mia volontà E, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, ascoltatemi, muovetevi a compassione delle mie lacrime, dei miei sospiri ardenti Vedete, mediante queste pagine io non solo vengo a voi come padre, ma ancora come maestro Da te mi ascolto poiché vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde, forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce, ad ogni passo esse vi sgombreranno la via per condurvi con sicurezza alla patria celeste Osservate ancora, io vengo pure come re in mezzo al suo popolo, non per chiedere imposte e tributti, ma per domandare la vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, tutti i vostri mali La mia sovranità vuole per sé tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e per bruciarlo nel mio amore, qual re benefico, pacifico, magnanimo, io vi accorderò in cambio la mia volontà, il mio amore più tenero, le mie ricchezze e felicità, con la pace e con la gioia più pura Se mi cederete la vostra volontà umana per far regnare in mezzo a voi la mia divina, vi accerto che sarete felici appieno Il cielo e la terra vi sorrideranno, la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina Per appagare i miei desideri ardenti e per rendervi felice là, conoscendo il gran bene che vi porterà il regno del mio volere, ed amandovi quali i miei veri figli, sta già accingendosi con premura tutta materna a disporre le nazioni e i popoli a ricevere il dominio del regno della mia volontà Fu lei che preparò le genti per farmi discendere dal cielo sulla terra, e a lei ora affido l'alto e santo incarico di disporre l'umanità, con la forza del suo materno amore, a ricevere un dono sì grande Perciò, ascoltatemi figli miei, meditate con attenzione e passione queste pagine e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà Io mi porrò vicino a voi allora quando leggerete, vi toccherò la mente e il cuore affinché possiate comprendere la preziosità del dono che il mio ardente amore vi offre, e vi risolviate con generosità e con gioia a vivere con me, nella santità della mia volontà divina Dagli scritti di Luisa Piccarreta, appello del re dei re al suo popolo per entrare nel regno della sua divina volontà O iniquo mondo, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per bandirmi dalla società, dalle scuole, dalle conversazioni e da tutto, stai macchinando come abbattere i templi ed altari, come distruggere la mia chiesa ed uccidere i miei ministri ed io ti sto preparando un'era di amore, l'era del mio terzo Fiat Tu farai la tua via per bandirmi ed io ti confonderò d'amore, ti seguirò di dietro, mi farò incontro davanti per confonderti in amore, e dove tu mi avrai bandito, io erigerò il mio trono e vi regnerò più di prima, ma in modo sorprendente, tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono e come legato dalla forza dell'amore, dal diario di Luisa Piccarretta volume 12, 8 febbraio 1921, la promessa della divina volontà Gesù, a Luisa Piccarretta, il 5 febbraio 1928, volume 23 Figlia mia, come Adamo peccò, Dio gli fece promessa del futuro Redentore, passarono secoli, ma la promessa non venne meno e le generazioni ebbero il bene della Redenzione Ora, come venne dal cielo e formai il Regno della Redenzione, prima di partire dalla Terra, feci un'altra promessa più solenne, dell'Avvento del Regno della mia Volontà, nella preghiera del Pater Noster, e perché questo Regno si potesse più sicuramente ottenere, feci questa promessa formale nella solennità della mia preghiera, pregando il Padre che facesse venire il suo Regno, e che la Volontà Divina si facesse come in cielo così in terra. Voglio mettermi io a capo di questa preghiera, conoscendo che tale era la Volontà del Padre mio che, pregato da me, non mi avrebbe nulla negato, molto più che con la sua stessa volontà io pregavo e chiedevo una cosa dal mio stesso Padre voluta. Dopo d'aver formata questa preghiera innanzi al Padre Celeste, sicuro che mi avrebbe accordato il Regno della mia Volontà sulla Terra, l'insegnai ai miei Apostoli, affinché a loro volta, l'insegnassero a tutto il mondo, perché uno fosse il grido di tutti, sia fatta la Volontà tua, come in cielo così in terra. Promessa più certa e solenne non avrei potuto fare, i secoli per noi, tre persone divine. Sono come un punto solo e le nostre parole sono atti e fatti compiuti, quindi, sono passati secoli, ma il Regno del Divin Volere certamente verrà. Il mio stesso pregare al Padre Celeste, venga, venga il Regno tuo, sia fatta la Volontà tua come in cielo così in terra, significa che con la mia venuta sulla Terra, non venivo a stabilire il Regno della mia Volontà, altrimenti avrei detto, Padre mio, il Regno nostro che già ho stabilito sulla Terra sia confermato e la nostra Volontà domini e regni. Invece dissi, venga, ciò significa che doveva venire e le creature dovevano aspettarlo con quella certezza con cui gli ebrei aspettarono il futuro Redentore. Vi è la mia Divina Volontà legata e compromessa in quelle parole del Pater Noster, e quando essa si lega è più che certo ciò che promette. Molto più che il tutto fu da me preparato, non ci volevano altro che le manifestazioni del Regno mio, questo lo sto già facendo, e se manifesto tante verità sul mio Fiat non è per dare una semplice notizia, no, ma perché voglio che tutti conoscano che il suo Regno è vicino e che apprezzino le sue belle prerogative, affinché tutti a mino, sospirino d'entrare a vivere in un Regno sì santo, pieno di felicità e di tutti i beni. Quindi, ciò che a te sembra difficile, dice Gesù a Luisa Piccarreta, alla potenza del nostro fiat è facile, perché essa sa smuovere tutte le difficoltà e conquidere tutto come vuole e quando vuole. 8 Maggio 1923, Volume 15 Dopo aver implorato il Padre perché il Regno di Dio si estendesse sulla terra, io proseguì la mia preghiera in nome e in favore di tutti gli uomini. Domandando il pane quotidiano intendevo chiedere tre specie di pane, cioè quello della mia volontà, quello eucaristico e quello materiale. Il pane della divina volontà è, fra tutti, il più necessario, poiché la creatura ne ha bisogno ad ogni istante per poter formare in se stessa la vita divina, mentre per alimentare la propria esistenza non usufruisce che due o tre volte al giorno di quello materiale. L'Eucaristia fu il secondo pane che domandai per l'umanità. Ma quali frutti avrebbe esso ricato se l'uomo non si fosse prima nutrito del volere divino? Figlia mia, se tu sapessi quanto soffro nella creatura che, invece di cibarsi di questo pane, si alimenta di quello corrotto della volontà umana. Sebbene io entri, tuttavia io non le posso comunicare né i benefici effetti del divino sacramento, né la mia santità, e se qualche cosa le dono, ciò avviene in piccola porzione e da seconda delle sue disposizioni. Per poterle dispensare i doni della mia vita sacramentale, debbo pazientemente attendere che essa si cibi della suprema volontà. Ciò che si avvera per l'Eucaristia, si ripete per tutti i sacramenti che io lasciai alla mia Chiesa. Essi confederanno la plenezza dei frutti che contengono e comunicheranno vera santità alle anime, soltanto quando la volontà divina verrà da esse compiuta sulla terra così come si compie in cielo. Per ultimo domandai al Padre mio il pane materiale, vale a dire tutti i mezzi che sono necessari per il sostentamento dell'uomo. Quindi aggiunsi, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche questa petizione sarà esaudita totalmente, non appena l'uomo si ciberà del volere di Dio, così come se ne cibò la mia santa umanità. E allora la sua carità sarà perfetta, il suo perdono simile al mio sulla croce, avrà l'impronta dell'eroismo, le sue virtù, essendo direttamente volontà suprema, diverranno e saranno come rivoli sgorgati da essa, come da immenso mare. Infine invocai, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, affinché la creatura, forte del pane della divina volontà, potesse superare qualsiasi tentazione ed essere liberata da tutti i mali, sia morali che fisici. Vedi dunque quanto sia necessario che la mia volontà si compia come in cielo così in terra. La sua effettuazione è talmente importante che io non insegnai agli uomini altra preghiera se non quella del Padre nostro. E la Chiesa, fedele depositaria ed esecutrice dei miei ammaestramenti, la ripete sempre ed in ogni circostanza e a sua volta la fa recitare ai dotti e agli ignoranti, ai sudditi e ai re, affinché tutti indistintamente invochino sulla terra il santo regno della divina volontà, la creazione, l'immacolata, l'uomo. Volume 16, 24 novembre 1923 L'origine della mia volontà è eterna, mai entrò il dolore in essa, tra le divine persone e questa volontà era una somma concordia, anzi era una sola, in ogni atto che emetteva fuori, tanto a bintra quanto ad extra, ci dava infinite gioie, felicità immense, e quando volemmo uscire fuori la macchina della creazione, quanta gloria, quanto onore, quante armonie essa ci diede. Come si sprigionò il Fiat, questo Fiat diffuse la nostra bellezza, la nostra luce, la nostra potenza, l'ordine, l'armonia, l'amore, la santità divina, e noi restammo glorificati dalle stesse virtù nostre vedendo, per mezzo del nostro Fiat, la fioritura della nostra divinità adombrata in tutto l'universo. Il nostro volere non si arrestò, gonfio d'amore come stava, volle non solo creare l'uomo, ma avere vita operante in esso, per dargli sempre nuove sorprese d'amore, di gioie, di felicità, di luce, di ricchezze. Ma l'uomo volle fare la sua volontà e ruppe con la divinità, e così recò il primo dolore al mio volere, amareggiò colui che tanto l'amava e che l'aveva reso felice. Mai l'avesse fatto, il mio volere si ritirò e pianse più che tenera madre piange il suo figlio storpio e cieco, e l'uomo precipitò nell'abisso di tutti i mali. Intanto, per riannodare di nuovo queste due volontà, era necessario uno che contenesse in sé una volontà divina ed allora le tre divine persone, amando l'uomo con amore eterno ed infinito, decretarono che io, Verbo eterno, prendessi umano carne per venire a salvarlo e riannodare le due volontà spezzate. Ma in chi scendere? Chi doveva essere la fortunata creatura che doveva albergare il suo creatore? Ne scegliemmo uno che in virtù dei meriti previsti del futuro Redentore fu esente dalla colpa di origine, in essa il suo volere e il nostro furono uno. Fu la mia volontà che fece ascendere tanto in alto la mia Santissima Madre. Fu la mia volontà che le diede la fecondità divina e la fece Madre del Verbo. Fu la mia volontà che le fece vedere ed abbracciare tutte le creature insieme. Volume 16, 24 novembre 1923 Fu questa celeste creatura che comprese la storia della nostra volontà, noi, come appiccino a tutto le narrammo, il dolore del nostro volere, e come l'uomo ingrato con lo spezzare la sua volontà con la nostra, aveva ristretto il nostro volere nella cerchia divina, Come inceppandolo nei suoi disegni, impedendo che potesse comunicargli i suoi beni, e lo scopo per cui era stato creato. Per noi il dare è felicitarci e rendere felice chi da noi riceve, e arricchire senza, noi. Impoverire, è dare ciò che noi siamo per natura e formarlo nella creatura per grazia, è uscire da noi per dare ciò che possediamo, col dare il nostro amore si sfoga, il nostro volere fa festa, se non dovevamo dare, a che pro formare la creazione? Sicché, solo il non poter dare ai nostri figli, alle nostre immagini, era come un lutto per la nostra suprema volontà, solo nel vedere l'uomo operare, parlare, camminare, senza il connesso del nostro volere, perché da lui spezzato, e che dovevano correre a lui, se era con noi, correnti di grazie, di luce, di santità, di scienza, ecc., ecc., e non potendolo, il nostro volere si atteggiava dolore, in ogni atto di creatura era per noi un dolore, perché vedevamo quell'atto vuoto del valore divino, privo di bellezza e di santità, tutto dissimile dagli atti nostri. Oh, come comprese la celeste piccina questo nostro sommo dolore ed il gran male dell'uomo nel sottrarsi dal nostro volere. Oh, quante volte lei pianse a calde lacrime per il nostro dolore e per la grande sventura dell'uomo! E perciò lei, temendo, non volle concedere neppure un atto di vita alla sua volontà, perciò si mantenne piccola, perché il suo volere non ebbe vita in lei, come poteva farsi grande? Ma ciò che non fece essa, fece il nostro volere, la crebbe tutta bella, santa, divina, la arricchì tanto che la fece la più grande di tutti, era un prodigio del nostro volere, prodigio di grazia, di bellezza, di santità. Ma essa si mantenne sempre piccola, tanto che non scendeva mai dalle nostre braccia, E presa a petto suola nostra difesa, ricambiò tutti gli atti dolenti del supremo volere, e non solo stava lei tutta in ordine alla nostra volontà, ma fece suoi tutti gli atti delle creature, assorbendo in sé tutta la nostra volontà respinta da loro, la riparò, l'amò, e tenendola come a deposito nel suo cuore virginale, preparò il cibo della nostra volontà a tutte le creature. Vedi dunque con quale cibo alimenta i suoi figli questa madre amantissima? Le costò tutta la sua vita, pene inaudite, la stessa vita del figlio suo, per fare in lei il deposito abbondante di questo cibo della mia volontà, per tenerlo pronto per alimentare tutti i suoi figli qual madre tenera e amorosa. Lei non poteva amare di più i suoi figli, col dar loro questo cibo il suo amore è raggiunto all'ultimo grado. Sicché, ha tanti titoli che essa tiene, il più bel titolo che le si potrebbe dare è di madre e regina della volontà divina. Volume 20, 29 ottobre 1926 Io creai il cielo ed accentrai il mio amore verso dell'uomo nel cielo e per dargli maggior diletto lo tempestai di stelle, io non amai il cielo ma l'uomo nel cielo, e per lui lo creai. Come fu forte e grande il mio amore nello stendere sul capo dell'uomo questa volta azzurra, ornata di fulgidissime stelle, come un suo padiglione che nere, né imperatori ne possono averle uguale. Ma non mi contentai di accentrare il mio amore nel cielo verso dell'uomo, che doveva servire, per puro diletto volendomi dilettare in amore con lui, vogli creare il sole, accentrando verso dell'uomo tanto amore nel sole. Io amavo l'uomo nel sole, non il sole, e perciò io mettevo in esso, amore di necessità, perché era necessario il sole per la terra, che doveva servire alle piante e dal benessere dell'uomo, amore di fuoco che doveva riscaldarlo. Tutti gli effetti che produce questo pianeta che sono innumerevoli, miracolo continuo che sta nella volta dei cieli, e che scende con la sua luce a bene di tutti, tante specialità d'amore accentrai nel sole verso dell'uomo, per quanti beni ed effetti produce. O. Se la creatura facesse almeno attenzione, al mio amore che gli porta il sole, come mi sentirei felice e contraccambiato del gran amore che ho messo in questo mio relatore divino e portatore del mio amore, della mia luce. Ora dopo che il tutto creai formai la natura dell'uomo con le mie stesse mani creatrici e come formai le ossa, stendevo i nervi, formai il cuore, così accentravo il mio amore, e dopo che lo vestì di carne formando come la più bella statua che nessun altro artefice poteva mai fare lo guardai, lo amai tanto, che il mio amore sboccò non potendo contenerlo ed aletandolo gli infusi la vita. Ma non fummo contenti, la Trinità Sacro Santa dando in eccesso d'amore, volle destarlo, dandogli intelletto, memoria e volontà, e da secondo la sua capacità di creatura, lo arricchimmo di tutte le particelle del nostro essere divino. Tutta la divinità era tutta intenta ad amare e da riversarsi nell'uomo, fin dal primo istante della sua vita sentì tutta la forza del nostro amore e dal fondo del suo cuore espresse con la sua voce l'amore al suo creatore. Oh! Come ci sentimmo felici nel sentire che l'opera nostra, la statua fatta da noi, parlava, ci amava, e con amore perfetto. Era il riflesso del nostro amore che usciva da lui, quest'amore non era stato contaminato dalla sua volontà, perciò il suo amore era perfetto, perché possedeva la pienezza del nostro amore. Fin'allora tutte le cose da noi create, nessuna cosa ci aveva detto che ci amava, ora nel sentire che l'uomo ci amava, la nostra gioia, il nostro contento, fu tanto grande, che per compimento della nostra festa, lo costituimmo re di tutto l'universo e come il più bello gioiello delle nostre mani creatrici. Com'era bello l'uomo, nei primi tempi della sua creazione. Era il nostro riflesso, e questi riflessi gli davano tanta bellezza che rapiva il nostro amore, e lo rendeva perfetto in tutti gli atti suoi. Perfetta era la sua gloria che dava al suo creatore, perfetta la sua adorazione, il suo amore, le sue opere, la sua voce era tanto armoniosa che risuonava in tutta la creazione, perché possedeva l'armonia divina, e di quel fiat che gli aveva dato la vita. Tutto era ordine in lui, perché il nostro volere gli portava l'ordine del suo creatore, lo rendeva felice, e lo faceva crescere a nostra somiglianza e secondo il nostro detto, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ogni suo atto fatto nell'unità della luce del fiat supremo era una tinta di bellezza divina che acquistava, ogni suo detto, era una nota armoniosa di più che suonava. Tutto era amore in lui, in tutto ci decantava la nostra gloria, la nostra potenza e sapienza infinita, e tutto, cielo, sole e terra gli portavano gioie, felicità ed amore di colui che l'aveva creato. Se tu potessi formare una statua a secondo che più ti piaceva, puoi riversarti tutta te stessa in essa dandogli tutti gli umori vitali, e con l'impero del tuo amore dargli la vita, quanto non l'ameresti? E quanto non vorresti che ti amasse? Qual sarebbe la tua gelosia d'amore che tutto stesse a tua disposizione e che neppure un palpito tollereresti che non fosse tutto per te? A Tu nella tua statua guarderesti te stessa e quindi ogni piccola cosa non fatta per te sentiresti uno strappo fatto a te stessa. Tale son io, tutto ciò che la creatura non fa per me sono tanti strappi che sento, molto più che la terra che la sostiene è mia, il sole che la illumina e riscalda è mio, l'acqua che beve, il cibo che prende è mio, tutto è mio, vive a spese mie e mentre tutto le do essa, la bella statua mia, non è per me. Qual deve essere dunque il mio dolore, l'affronto e l'offesa che mi dà questa statua, pensalo tu stessa figlia mia. Ora tu devi sapere che solo la mia volontà può ridarmi la mia statua bella come io la feci, perché essa è la conservatrice di tutte le opere nostre. È il portatore di tutti i nostri riflessi in modo che l'anima vive dei nostri riflessi, i quali, se ama le somministra la perfezione dell'amore, se opera, opera la perfezione delle opere, insomma tutto ciò che fa tutto è perfetto in lei e questa perfezione le dà tante tinte di tante bellezze da innamorare l'artefice che la formò. Ecco, perciò amo tanto che il Fiat Supremo sia conosciuto e vi formi il suo regno in mezzo alle umane generazioni, per stabilire l'ordine tra creatore e creatura per ritornare a mettere in comune i nostri beni con essa, e solo la nostra volontà tiene questo potere, senza di essa non ci può essere molto di bene, né la nostra statua può ritornarci bella come uscì dalle nostre mani creatrici. 23 agosto 1936, volume 34 La Vergine Santa costituì il massimo prodigio della creazione, perché il volere divino soggiogò fin dal primo istante del suo concepimento il suo volere umano, e il volere di questa santa creatura a sua volta soggiogò quello divino. Un volere vinse l'altro ed ambedue riuscirono vincitori. Non appena il Fiat Supremo entrò come re dominante in lei, subito ebbero inizio le catene dei grandi miracoli divini. La forza increata si riversò in quella creata con una forza tale, da poter sostenere la creazione intera così come se essa fosse un fuscello di paglia. Grazie a questa irruenza tutte le cose sentirono che nella loro forza creata scorreva quella increata, la quale le sosteneva e contribuiva alla loro conservazione. Questa forza invincibile che proveniva dalla Vergine, in virtù del Fiat Divino, era tanto potente da imperare su tutto e persino sul Creatore Medesimo. Nessuno poteva resisterle, gli stessi demoni si sentivano debilitati e non sapevano dove nascondersi per sottrarsi ad essa. Nello stesso modo con cui la nostra forza divina si era riversata nella volontà creata della Vergine, così il nostro amore infinito si effuse nel suo amore finito, comunicandole l'irresistibile bisogno di amare tutti senza misura. Da quell'istante non vi fu essere creato che non fosse prediletto da lei. Come madre e come regina ella fu investita dal nostro Fiat di tale abbondanza d'amore, di bontà e di grazia, da rapire tutti i cuori e da farsi amare persino dalle cose che non posseggono la ragione. Ognuno dei suoi atti, delle sue preghiere, delle sue adorazioni e riparazioni riempivano cieli e terra ed il suo amore, padroneggiando tutto, correva nel cielo, nel sole, nel vento, ovunque, e così il nostro Ente Supremo si sentì contraccambiato e pregato da lei in ogni cosa creata. Una nuova vita scorreva in tutto, ci amava per tutti e ci faceva amare per tutti. Era la volontà increata che aveva avuto il suo posto d'onore nella volontà creata, che ci dava in tal modo il contraccambio dell'amore che mettemmo a disposizione nella creazione. Punto non guardare la terra, dice Gesù a Luisa Piccarreta il 26 aprile 1921, volume 12. Punto e virgola le creature lasciamo le fare, vogliono fare la guerra, la facciano pure, e quando loro saranno stanche, anch'io farò la mia guerra. La loro stanchezza nel male, le loro disillusioni, i disinganni, le perdite subite, le disporranno a ricevere la mia guerra. La mia guerra sarà guerra di amore, il mio volere scenderà dal cielo in mezzo a loro, tutti i tuoi atti e quelli delle altre anime, fatti nel mio volere, faranno guerra alle creature, ma non guerra di sangue, guerreggeranno con le armi dell'amore dando loro doni, grazie, pace, faranno prodigi sorprendenti da far stupire l'uomo ingrato. Questa mia volontà, e tutti i miei amorosi disegni, sì come una milizia celeste, con armi divine confonderanno l'uomo, lo travolgeranno, gli daranno la luce per vedere più che il male, i doni e le ricchezze con cui voglio arricchirlo. Gli atti fatti nel mio volere, portando con sé la potenza creatrice, saranno la nuova salvezza dell'uomo e, scendendo dal cielo, porteranno tutti i beni sulla terra, porteranno La nuova era ed il trionfo sulla iniquità umana. Perciò, moltiplica i tuoi atti nella mia volontà, per formare le armi d'amore per guerreggiare le creature quando scenderemo in mezzo ad esse. La creazione, atto d'amore La divina volontà, il dono Volume 23 Tutta la macchina dell'universo, per amor di chi non esisteva ancora. Dopo di ciò il nostro amore rigurgitò più forte e creammo colui per cui tutte le cose furono create. Quando noi operiamo, operiamo sempre con magnanimità inesauribile, e mentre non esauriamo, diamo tutto, in modo che nulla deve mancare all'opera nostra, di magnificenza, di grandezza e di tutti i beni. Nel creare l'uomo senza nessun merito, per dote, per fondamento, per sostanza di tutti i beni, gioia e felicità, gli demmo per regno la nostra volontà, affinché nulla gli mancasse, avendo a sua disposizione una volontà divina ed insieme con essa il nostro essere supremo. Quale onore sarebbe stato per noi se l'opera della creazione fosse stata povera, misera di luce, senza molteplicità di tante cose create, senza ordine e senza armonia, ed il nostro caro gioiello, il nostro caro figlio, qual è l'uomo, senza la pienezza dei beni di colui che lo aveva creato? Non sarebbe stato decoroso, per chi tutto possiede e tutto può, fare opera incompleta, Molto più che il nostro amore, rigurgitando forte forte, più che onde impetuose, voleva dare, sfoggiare, quanto più poteva, fino a riempire il nostro amato gioiello di tutti i beni possibili ed immaginabili e formare dei mari intorno a lui che straripassero da lui stesso. E non contenti di tutto questo, fummo presi d'amore se esuberante verso di lui, che la nostra immensità lo coinvolgeva dappertutto, dovunque ed in ogni istante e fin nelle fibre del suo cuore, La nostra potenza lo sosteneva portandolo dappertutto nelle nostre braccia paterne, la nostra vita, il nostro moto palpitava nel suo palpito, respirava nel suo respiro, operava nelle sue mani, camminava nei suoi piedi e giungeva a farsi sgabello fin sotto i suoi passi. La nostra paterna bontà per tenere al sicuro questo nostro caro figlio, lo metteva in condizioni che lui non si poteva separare da noi, né noi da lui. Che altro potevamo fare e non facemmo? Per lui sborsammo tutto il nostro amore, la nostra potenza, la nostra volontà e mettemmo in attitudine la nostra sapienza infinita. Se la mia suprema volontà operava costituendosi vita in ogni cosa creata, per darsi anche per mezzo di essa come vita alle umane generazioni, il mio amore facendo la sua via nel mio eterno fiat mi accentrava per amare l'uomo. Sicché in ogni cosa creata, nel vento, nel mare, nel piccolo fiore, nell'uccellino che canta, in tutto io accentravo il mio amore, affinché tutti gli portassero amore, ma per sentire e comprendere e ricevere questo mio linguaggio d'amore, l'uomo doveva amarmi, altrimenti sarebbe stata tutta la creazione come muta per lui e senza vita. Volume 20, 29 ottobre 1926 Figlia mia, spiega Gesù a Luisa, tutta la creazione dice, gloria, adorazione verso il nostro creatore, amore verso le creature. Sicché la creazione è una gloria, un'adorazione muta per noi, perché non le fu concessa nessuna libertà, né di crescere né di decrescere, l'uscimmo fuori di noi ma la restammo in noi, cioè dentro della nostra volontà a decantare, sebbene muta, la nostra potenza, bellezza, magnificenza e gloria, sicché siano noi stessi che ci decantiamo la nostra potenza, la nostra gloria, l'infinito amore nostro, potenza, bontà, armonia e bellezza. La creazione nulla cida da per sé stessa, sebbene essendo essa lo sbocco di tutto il nostro essere divino, serve di specchio all'uomo come guardare e conoscere il suo creatore, e le dà lezioni sublimi di ordine, d'armonie, di santità e d'amore. Si può dire che lo stesso creatore, atteggiandosi a maestro divino, dà tante lezioni per quante cose creò, dalla più grande alla più piccola opera che uscì dalle sue mani creatrici. Non fu così nel creare l'uomo. Il nostro amore fu tanto per lui, che sorpassò tutto l'amore che avemmo nella creazione. Perciò lo dotammo di ragione, di memoria e di volontà, e mettendo la nostra volontà come al banco nella sua perché la moltiplicasse, la centuplicasse, non per noi che non avevamo bisogno, ma per suo bene, affinché non restasse come le altre cose create, mute ed in quel punto come noi le uscimmo, ma che crescesse sempre, sempre in gloria, in ricchezze, in amore ed in somiglianza col suo creatore. E per fare che lui potesse trovare tutti gli aiuti possibili ed immaginabili, gli demmo a sua disposizione la nostra volontà, affinché operasse con la nostra stessa potenza il bene, la crescenza, la somiglianza che voleva acquistare col suo creatore. Il nostro amore nel creare. Maledesse la forma d'un piccolo Dio. Perciò il nostro dolore fu grande nel vederci respingere questi grandi beni dalla creatura, ed il nostro giuoco d'azzardo per allora andò fallito, ma per quanto fallito, era sempre un giuoco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Perciò, dopo tanti anni, volle di nuovo il mio amore giocare d'azzardo, e fu con la mia mamma immacolata. In lei il nostro giuoco non andò fallito, ebbe il suo pieno effetto, e perciò tutto le demo e tutto a lei affidammo, anzi si faceva a gara, noi a dare e lei a ricevere. Ora, tu devi sapere che il nostro amore anche con te vuol fare questo giuoco d'azzardo, affinché tu, unita con la mamma celeste, ci faccia vincere nel giuoco col farci rifare del fallimento che ci procurò il primo uomo, Adamo, onde la nostra volontà rifatta nelle sue vincite può mettere di nuovo in campo i suoi beni che con tanto amore vuol dare alle creature volume 19, 9 marzo 1926 Figlia mia, volume 16, 24 novembre 1923 Se tanto fece la mia mamma per l'opera della redenzione, anche tu per l'opera del Fiat Voluntas Tua, la tua volontà non deve avere vita in te, e facendo suoi tutti gli atti della mia volontà di ciascuna creatura, li deponi in te, e mentre a nome di tutti contraccambierai la mia volontà, Voluntà, formerai in te il cibo necessario per alimentare tutte le generazioni col cibo della mia volontà. Volume 23, 30 ottobre 1927 Figlia mia, ora, come nella creazione, il nostro amore rigurgitò forte ed il regno della mia volontà è deciso che vuole la vita in mezzo alle creature, e perciò, sfoggiando con tutta magnificenza, senza guardare ai loro meriti, con magnanimità insuperabile, vuol dare di nuovo il suo regno. Il suo punto solo che vuole che vuole che le creature lo sappiano, conoscono i suoi beni, affinché conoscendoli, sospirino e vogliano il regno della santità, della luce e della felicità, e come una volontà lo respinse, così un'altra lo chiami, lo sospiri, lo pressi a venire e regnare in mezzo alle creature. Ecco perciò la necessità delle sue conoscenze, se un bene non si conosce, né si ama, né si vuole, perciò le verità che ora ti manifesto per far conoscere la mia volontà, saranno i messaggeri, i forieri che annunzieranno il regno mio. Sì, le conoscenze sul mio Fiat si atteggeranno ora a soli, ora a tuonni, ora a scoppi di luce, ora a venti impetuosi che chiameranno l'attenzione dei dotti e degli ignoranti, dei buoni ed anche dei cattivi. Saranno come fulmini che cadranno nei loro cuori e con forza irresistibile li atterreranno per farli risorgere nel bene delle conoscenze acquistate, formeranno la vera rinnovazione del mondo, prenderanno tutti gli atteggiamenti per allettare e vincere le creature. Si atteggeranno ora a paceri, che col loro bacio di pace, faranno dimenticare alle creature il passato e ricordare solo d'amarmi insieme e felicitarsi a vicenda, ora a guerrieri, certi della loro vittoria, per rendere certa la conquista di chi le vorrà conoscere, ora a preghiere incessanti, perché le creature tutte conoscano ed entrino a far parte d'un regno sì santo, Ora a re dominante e ispirante amore dinanzi a cui piegheranno la fronte per farsi dominare. Che cosa non farà la mia volontà? Metterà tutta la potenza in attitudine per venire di nuovo a regnare in mezzo alle creature, essa possiede una bellezza rapitrice che, manifestatasi anche una sola volta, rapidamente rapisce e con la sua potenza abbellisce, gettando le sue onde di bellezza sull'anima che, estasiata in essa, rimarrà presa come un labirinto da cui non avrà più la forza d'uscirne. Possiede una potenza incantevole e l'anima resterà attratta nel suo dolce incanto. Possiede un'area balsamica che, respirata, la creatura sentirà entrare in sé l'aria della pace, della santità, dell'armonia divina, della felicità, della luce che tutto purifica, dell'amore che tutto brucia, della potenza che conquide, sarà l'aria che porterà il balsamo celeste a tutti i mali prodotti dall'aria cattiva, morbosa e micidiale dell'umana volontà. L'aria della mia volontà mantiene la vita pura, sana, santa, bella e forte come uscì dal seno del suo creatore. Invece l'aria micidiale dell'umana volere deforma l'anima della povera creatura, la fa discendere dalla sua origine e cresce malata, debole da far pietà. Poi, con un'enfasi più tenera soggiunto, scrive sempre Luisa Piccarreta. Oh, volontà mia, quanto sei amabile, ammirabile, potente! La tua bellezza innamora i cieli e forma il continuo incanto che rapisce tutta la corte celeste. E, con la tua bellezza incantevole che tutto rapisce, rapisci la terra e col tuo dolce incanto, incanta tutte le creature, affinché una sia la volontà di tutti, una la santità, una la vita, uno il tuo regno, uno il tuo fiat, come in cielo, così in terra. Ancora Gesù a Luisa, il 26 maggio 1928, volume 24 Punto Dio è ordine, e quando vuol dare un bene alle creature, vi mette sempre il suo ordine divino. Ogni bene incomincia da Dio, egli vi si mette a capo per prendere l'impegno, perché il bene abbia il suo corso e poi ordina le creature allo stesso scopo. Ciò feci per dare io la redenzione e le creature per riceverla, e ciò sto facendo io, per dare il regno del fiat divino e le creature per riceverlo. Nel formare il pater nostro, mi mettevo io a capo e prendevo l'impegno sicuro di dare questo regno, e con l'insegnarlo ai miei apostoli, mettevo l'ordine nelle creature per poter ottenere un tanto bene. Tutta la Chiesa prega, non c'è anima che ad essa appartenga. Che non reciti il pater nostro e, sebbene molti lo recitino senza interesse di volere chiedere un regno santo, si santo, cioè che il volere divino si faccia come in cielo così in terra, stando quest'interesse in colui che lo insegnò, anche semplicemente recitandolo, si rinnova il mio interesse e sento la mia preghiera, che chiede perché venga il regno suo e si faccia la volontà sua come in cielo così in terra. Quando poi la creatura nel recitare il pater, mostra interesse di volere e sospirare il regno mio, allora entra anch'essa parte del mio interesse, e la sua volontà si fonde nella mia per lo stesso scopo. Come vedi, il mio volere ed interesse corre sempre in ogni pater nostro e l'ordine divino fa chiedere a tutti la medesima cosa. Vero è che in mezzo a questi che chiedono vi sono quelli che vogliono fare la mia volontà, altri che già la fanno, ma essendo unico lo scopo, tutti ugualmente chiedono insistentemente da Dio che la sua volontà venga a regnare sulla terra. E siccome Dio tutto ha stabilito ed ordinato, aspetta che le anime più insistentemente preghino e, con la potenza della loro preghiera valorata dalla potenza della sua stessa volontà, attirino dal cielo l'eterno volere, e con le loro dolci catene d'amore lo leghino alla terra per farlo regnare in mezzo alle creature. Queste anime saranno come tante spose che inanellando il loro sposo con le loro catene amorose, lo porteranno come trionfo in mezzo alle creature. E come la Vergine Santa mise termine alle ore notturne dei patriarchi e profeti e formò l'alba per far spuntare il sole del Verbo Eterno, così queste anime formeranno l'alba per fare spuntare il sole del Fiat Divino, perché la volontà di Dio regni come in cielo così interrà. Credi tu, che se la mia volontà con tanto amore si è fatta conoscere ed ha manifestato tanto interesse di voler venire a regnare sulla terra, l'abbia fatto senza che nessuno l'avesse pregata? Oh no, no, sono state le continue preghiere della Chiesa, ed in queste preghiere ero proprio io che pregavo, e me ne servivo di esse per affrettare l'avvento del Regno del Fiat Divino sulla terra. Sappi che quando noi facciamo conoscere un nostro bene, una verità, una conoscenza che ci appartiene, è perché vogliamo farne dono alla Creatura. Ed io, Luisa Piccarreta, mio amato Gesù, quando verrà questo Regno? E lui, Gesù, figlia mia, per venire la Redenzione ci vollero quattromila anni, perché il popolo che pregava e sospirava il futuro Redentore era il più piccolo, di numero molto ristretto, invece le anime che appartengono alla mia Chiesa, formano più popoli e sono di numero O, quanto superiore a quello. Perciò il numero abbrivierà il tempo, molto più che la religione si sta facendo strada ovunque, e ciò non è altro che la preparazione al Regno della mia Divina Volontà. 30 Aprile 1932, Volume 30 È vero che umanamente parlando, la Creatura, accerchiata com'è dai mali, non sa ancora concepire come vivere nel mio volere e come potrà formarsi il suo Regno sulla Terra, è per lei come se volesse toccare il cielo col dito, ma ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio. Tu devi sapere che il vivere nella nostra volontà è un dono che la nostra magnanimità vuol dare alla Creatura, e con questo dono e la si sentirà trasformata, da povera ricca, da debole forte, da ignorante dotta, da schiava di vili passioni, dolce e volontaria prigioniera di una volontà tutta santa, che le darà libero dominio di se stessa, dei domini divini e di tutte le creature. Se ad un povero mendico che veste miseri cenici, che abita in un tugurio senza porte, quindi esposto ai ladri, a tutte le intemperie, che non ha un pane sufficiente per sfamarsi onde è costretto a mendicarlo, Un re gli desse un milione per dono, egli cambierebbe subito la sua sorte, non sarebbe più un mendico, ma un signore che possiede palazzi, ville, che veste abiti di lusso, che si nutre di cibi squisiti e che si trova nella possibilità di aiutare anche gli altri. Chi ha cambiato la sorte di questo povero? Il milione ricevuto in dono Ora se una vile moneta ha la virtù di cambiare la sorte di un povero infelice, molto più il grande dono della nostra volontà, dono di infinito valore, dono che, donato, cambierà la sorte infelice delle umane generazioni, tranne di quelle anime che non lo vorranno accettare. Questo dono, fu dato all'uomo nel principio della sua creazione, ma ingrato, ce lo respinse col fare la sua volontà. Ora che si dispone a fare il nostro volere, si prepara a riavere questo dono sì grande ed infinito. Le nostre conoscenze sul Fiat, aiuteranno e prepareranno in modo sorprendente la creatura a ricevere questo dono, e ciò che non ha ottenuto fino oggi, lo potrà ottenere domani. Con questo dono, l'umana famiglia si sentirà talmente vincolata al suo creatore, che non si vedrà più da lui lontana, anzi, così vicina, come se fosse della sua stessa famiglia e convivesse nella sua stessa reggia. Allora si vedrà nell'abbondanza delle sue ricchezze, né più sentirà le miserie, le debolezze, le passioni tumultuanti, ma tutto sarà forza, pace, abbondanza di grazia fino al punto da poter dire, nulla mi manca, ho tutto a mia disposizione. I doni che noi diamo sono sempre effetti del nostro amore inestinguibile della nostra somma magnanimità, perché, se volessimo badare se la creatura merita o no, se ha fatto o no dei sacrifici, allora ciò che noi diamo non sarebbe più dono, ma mercede, ed il nostro dono dipenderebbe allora dalla creatura e diverrebbe di suo diritto. No, i nostri doni non sono di diritto di nessuno. Difatti, l'uomo non esisteva ancora, e prima che egli fosse, già creammo il cielo, il sole, il vento, il mare, la terra fiorita, e tutto il resto per farne a lui dono. Poteva forse meritare doni sì grandi e perenni? Ma il nostro amore non fu nemmeno contento, per cui, nel creare lui, gli demmo anche il gran dono che superò tutti gli altri, il nostro fiat onnipotente. Vero è che ce lo respinse, però noi lo tenemmo in riserva, per dare poi ai figli quel medesimo dono che ci respinse il padre. In contraccambio altro non vogliamo che la corrispondenza da parte della creatura, la sua gratitudine, il suo piccolo amore. 8 maggio 1932, volume 30 Il nostro ente supremo, creando l'uomo voleva stare in continua corrispondenza con lui, per dargli ora un dono, ora un altro, voleva fargli tante belle sorprese non mai interrotte, ma egli, col fare la sua volontà, tacitamente disse al suo creatore, «Ritirati, non ho dove mettere i tuoi doni, così perdette la sua vita divina e tutti i suoi infiniti beni». Ecco la ragione perché l'uomo si allontanò dal nostro fiat, si disordinò in modo che ad ogni passo vacillava, divenne preda di tutti i mali ed incapace di far del bene. E così ora ci sentiamo come immobilizzati dall'uomo, perché vogliamo dare e non possiamo, vogliamo parlare e non ci intende, mentre il nostro amore, con accenti pietosi non si stanca di dirgli, «Oh, uomo, rientra in te stesso, richiama in te quella volontà che respingesti, essa vuoi ritornare per distruggere i tuoi mali e, se la inviti, è pronta a prendere il possesso ed a formare il suo regno in te, il suo dominio di pace, di felicità, di gloria, di vittoria per me e per te». E, non voler essere più schiavo, né vivere nel labirinto dei tuoi mali e miserie. Ricordati che tale io non ti creai, anzi ti creai re di te stesso, re di tutto. Perciò chiama la mia volontà come vita, ed essa ti farà conoscere la tua nobiltà e l'altezza del posto in cui fosti messo da Dio. Oh, come ne sarai contento, e contenterai il tuo creatore, la vita nella divina volontà, umanità del verbo, e ucarestia ostie viventi. Io, nel venire sulla terra, venni a manifestare la mia dottrina celeste, a far conoscere la mia umanità, la mia patria, e l'ordine che le creature dovevano tenere per raggiungere il cielo, in una parola, il Vangelo, ma della mia volontà quasi nulla o pochissimo dissi, quasi la sorvolai, facendo solo capire che la cosa che più mi importava era la volontà del Padre mio. Dei suoi pregi, della sua altezza e grandezza, dei grandi beni che la creatura riceva e col vivere nel mio volere, quasi nulla dissi, perché la creatura, essendo troppo bambina nelle cose celesti, non avrebbe capito nulla, solo la insegnai a pregare, fiat voluntas tua, sicutin coelo et in terra, affinché si disponesse a conoscere questa mia volontà per amarla e farla e quindi ricevere i beni che essa contiene. Ora, ciò che dovevo fare allora, gli insegnamenti che dovevo dare a tutti sulla mia volontà, li ho dati a te, sicché il farli conoscere non è altro che supplire a ciò che dovevo fare io stando in terra come compimento della mia venuta Gesù a Luisa Piccarreta il 2 giugno 1921, volume 13. Tutti gli atti umani, secondo lo scopo della creazione, dovevano aver vita nel mio volere e formarvi il loro piano, di tutti gli atti umani cambiati in atti divini, con l'impronta della nobiltà, santità e sapienza suprema. Non era nostra volontà che l'uomo uscisse da noi, ma che vivesse con noi, crescendo a somiglianza nostra ed operando con gli stessi nostri modi. Perciò volevo che tutti i suoi atti fossero fatti nel mio volere, per dargli il posto per poter formare il suo fiumicello nel mare immenso del mio volume 14, 6 ottobre 1922. L'opera redimente è più grande, più variata e molteplice dell'opera della creazione, anzi ogni atto dell'opera redimente è mare immenso che circonda l'opera della creazione. Ora, chi vive nella mia volontà, chi prende per vita il mio fiat volontas tua, scorre in questi mari immensi dell'opera redimente, si diffonde e si allarga insieme, in modo da superare la stessa opera della creazione. Perciò la sola vita del mio fiat può dare vero onore e gloria all'opera della creazione, perché il mio fiat si moltiplica e si estende ovunque, non ha limiti, invece l'opera della creazione ha i suoi limiti, né si può allargare di più di quel che è. Figlia mia, il più grande miracolo che può operare la mia onnipotenza è un'anima che viva nel mio fiat. Ti pare poco che la mia volontà santa, immensa, eterna, scenda in una creatura, e mettendo insieme la mia volontà con la sua, la sperda in me e mi faccia vita di tutto l'operato della creatura, anche delle più piccole cose? Sicché il suo palpito, la parola, il pensiero, il moto, il respiro, sono del Dio viventi nella creatura, nasconde in sé cielo e terra, ed apparentemente si vede una creatura. Grazia più grande, prodigio più portentoso, santità più eroica, non potrei dare che il mio fiat. Vedi, l'opera della creazione è grande, l'opera della redenzione è più grande ancora, il mio fiat, il far vivere la creatura nella mia volontà, supera l'una e l'altra, perché nella creazione il mio fiat creò e mise fuori le opere mie, ma non restò come centro di vita nelle cose create, nella redenzione. Il mio fiat, il mio fiat restò come centro di vita nella mia umanità, ma non restò come centro di vita nelle creature, anzi se la loro volontà non aderisce alla mia, rendono vani i frutti della mia redenzione, invece col mio fiat voluntas tua sarà la vera gloria dell'opera della creazione ed il compimento dei copiosi frutti dell'opera della redenzione. Ecco la causa perché non voglio altro da te che il mio fiat, che esso sia la tua vita e che non miri altro che il mio volere, perché voglio essere come centro della tua vita. Volume 13, 6 giugno 1921 Figlia mia, racconta Gesù a Luisa il 19 ottobre 1922, volume 14 La mia umanità viveva come nel centro del sole eterno della mia volontà divina, e siccome da questo centro partivano raggi, che portando con loro la mia immensità coinvolgevano tutto e tutti. Il mio operato, partendo da questo centro, si trovava come in atto per ogni atto di creatura, ogni parola come in atto per ciascuna parola, ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero, e così di tutto il resto. E come ogni atto scendeva, come un atto solo risaliva di nuovo nel suo centro, portando con sé tutti gli atti umani per rifarli, per riordinarli, a seconda che voleva mio padre. Sicché solo perché la mia umanità viveva nel centro del volere eterno poté abbracciare tutti come un atto solo, per compiere con decoro, e degna di me, l'opera della redenzione, altrimenti sarebbe stata un'opera incompleta e non degna di me. E siccome la rottura della volontà umana con la divina fu tutto il male dell'uomo, così l'unione stabile della volontà della mia umanità con la divina doveva formare tutto il suo bene, e questo succedeva in me come con naturale. Guarda il sole, che cosa è? È una palla di luce, e questa luce la spande ugualmente a destra, a sinistra, davanti, di dietro, di sopra, di sotto, dovunque. La luce di tanti secoli a dietro è quella di oggi, il sole niente ha cambiato, né luce, né calore, e la luce di oggi sarà quella della fine dei secoli. Se avesse ragione potrebbe dire tutti gli atti umani, anzi li terrebbe in sé come proprietà sua, essendo stato lui vita, effetto e causa di ciascun atto, e questo come cosa con naturale per lui. Ora, tutto questo succede per L'anima che vive nel centro del mio volere Lei abbraccia tutti e nessuno ne sfugge, fa per tutti e niente omette Insieme con me non fa altro che spandersi a destra e da sinistra, davanti e di dietro, ma in modo semplice e con naturale, e come opera nel mio volere, fa il giro di tutti i secoli, e a tutti gli atti umani eleva il suo atto in modo divino, per virtù della mia volontà. Senti oh figlia mia, rigenerata nel mio supremo volere, dice Gesù a Luisa, quello che voglio fare di te ed in te, quello che faceva la mia umanità nella divina volontà voglio ripeterlo, ma voglio il tuo volere unito insieme, affinché ripeta insieme con me ciò che facevo e faccio ancora. Anche il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, al N. 521, ci ricorda, tutto ciò che Cristo ha vissuto, egli fa sì che noi possiamo viverlo in lui e che egli lo viva in noi. Nel mio volere, continua Gesù a Luisa, ci sono tutti gli atti che fece la mia umanità, sia interni che esterni. Degli atti esterni più o meno si sa ciò che io feci, e la creatura, volendo, si può unire con me e prendere parte a quel bene che feci, ed io sento il contento perché vedo il mio bene in mezzo alle creature come moltiplicato, in virtù dell'unione che formano con me. I miei atti sono messi come al banco, in banca, e ne riscuoto gli interessi. Invece, degli atti interni che fece la mia umanità nella divina volontà per amor di tutti, poco o nulla si sa, e la creatura, non conoscendone la potenza di questo volere, né come la mia anima operava in esso, né ciò che feci, come potrà unirsi con me per prendere parte a quel bene? Un oggetto, tanto utile porta, per quanto si conosce. Volendoti insieme con me, anche nei miei atti interni che faceva la mia umanità in questo volere supremo, è giusto che ti faccia conoscere i pregi, il valore, gli effetti, la potenza ed il modo che tiene questo mio volere, e da seconda che ti vado manifestando, apro tra te e me la partecipazione di quello che ti faccio conoscere, altrimenti, a che pro dirtelo? Forse per darti una semplice notizia? No, no, quando io faccio conoscere perché voglio dare. Sicché quanti valori ed effetti conosci, tanto ti ho dato. Perciò vedi il gran bene che voglio fare, non solo a te, ma anche agli altri, perché, come si farà via questa conoscenza del vivere nel mio volere, esso sarà amato di più e l'amore assorbirà in loro tutto il bene che la conoscenza, come madre feconda, avrà loro partorito. Io non sono il Dio isolato, no, voglio la creatura insieme con me, l'eco mia deve risuonare nella sua, e la sua nella mia, per farne una sola, e se ho aspettato tanti secoli per far conoscere il mio volere operante nella creatura ed il suo operante nel mio, quasi elevandolo al mio stesso livello, era perché dovevo preparare e disporre le creature a passare dalle conoscenze minori alle maggiori, dovevo fare come un maestro, che deve insegnare le vocali, le consonanti, e poi passa ai componimenti. Finora non si sapeva altro della mia volontà che le vocali e le consonanti, era necessario che passassi ai componimenti, e questo mi svolgerà la vita della mia volontà. Il primo componimento lo voglio da te, dice Gesù rivolto a Luisa, se sarai attenta lo svolgerai bene, in modo da darmi l'onore di un tema che ti ha dato il tuo Gesù, il tema più nobile, il tema del volere eterno, che mi porterà alla gloria più grande che, formando il connesso con le creature, farà conoscere nuovi orizzonti, nuovi cieli e nuovi eccessi del mio amore. Vedi, nel mio voler supremo stanno tutti i miei atti interni, che fece la mia umanità, come inaspettativa per uscire come messaggeri, per mettersi in via. Questi atti sono stati fatti per le creature, e vogliono darsi e farsi conoscere, e non dandosi, si sentono come imprigionati, e pregano, supplicano che il mio volere li metta a conoscenza, per poter dare il bene che essi contengono. Mi trovo nelle condizioni d'una povera madre, che per lungo tempo tiene il suo parto nel suo seno, e che essendo giunto il tempo di metterlo fuori, se non lo mette, spasima, se addolora, e non curando la propria vita, a qualunque costo vuole mettere fuori il suo portato. Le ore, i giorni di ritardo, le sembrano anni e secoli, tutto ha fatto e disposto, non resta altro che metterlo fuori. Tale sono io, più che madre. Per tanti secoli ho contenuto in me, più che parto, tutti i miei atti umani, fatti nella santità del volere eterno, per darli alla creatura e come si daranno. Innalzeranno gli atti umani della creatura in atti divini, e la freggeranno con le più vaghe bellezze, facendola vivere con la vita della mia volontà, dandole il valore, gli effetti ed i beni che il mio volere possiede. Perciò, più che madre spasimo, mi addoloro, brucio, che voglio far uscire questo parto della mia volontà. Il tempo è giunto, non resta altro che trovare chi deve riceverlo il primo parto, per continuare gli altri parti nelle altre creature. Perciò ti dico, sii attenta, allarga il tuo cuore per poter ricevere tutto il valore, gli effetti, la conoscenza che il mio volere contiene. Il volere umano, potrei dire, mi ha reso infelice in mezzo alle creature, e la mia volontà operante nella creatura mi restituirà la mia felicità. Ed ecco come, per realizzare questo suo progetto, assumendo Gesù l'atteggiamento di Maestro Amabile, si rivolge all'uomo decaduto per riportarlo allo stato d'origine, 9 febbraio 1908, volume 8. Voglio insegnarti il modo come devi stare con me. Primo, devi entrare dentro di me, e trasformarti in me, e prendervi ciò che trovi in me. Secondo, quando ti sei riempita tutta di me, esci fuori ed opera insieme con me, come se io e tu fossimo una sola cosa, in modo che se mi muovo io, muoviti tu, se penso io, pensa tu alla stessa cosa pensata da me, insomma, qualunque cosa che faccio io farai tu. Terzo, con questo operato insieme che abbiamo fatto, allontanati un istante da me e va in mezzo alle creature, dando a tutti e da ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme, cioè dando a ciascuno la mia vita divina, ritornando subito in me per darmi a nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi, pregando, scusandoli, riparando, amando. Ah, sì, amami per tutti, saziami d'amore. Voglio te, tutta stretta e unita con me, e questo, non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi solo, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità, come se uscisse da me il tuo operato, in modo che dovresti essere tu non altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina, e questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità, perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me, quindi li santificavo, li divinizzavo, li paravo. Onde, facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e da contenere tutte le creature in te, ed il tuo operato si diffonderà a bene di tutti, sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te volume 7, 28 novembre 1906. Per stringerti più stretta con me fino a giungere a sperdere il tuo essere in me come io lo trasfondo nel tuo, devi in tutto prendere ciò che è mio e in tutto lasciare ciò che è tuo, in modo che se tu pensi sempre a cose sante e che solo riguardano il bene, l'onore e la gloria di Dio, lasci la tua mente e prendi quella divina punto e virgola se parli, se operi bene e solo per amore di Dio, lasci la tua bocca, le mani, e prendi la mia bocca e le mie mani, se cammini le vie sante e rette, camminerai coi miei stessi piedi, se il tuo cuore amerà solo me, lascerai il tuo cuore e prenderai il mio, e mi amerai col mio medesimo amore, e così di tutto il resto, sì che tu resterai rivestita di tutte le cose mie e a Dio di tutte le cose tue, che metto io stesso in te e che sono mie. Ci può essere più stretta unione di questa? Volume 8, 8 gennaio 1909. Luisa gioisce di questo suo sperdersi in Gesù, volume 9, 4 novembre 1909. Avendo fatta la santa comunione stavo dicendo al mio adorabile Gesù, già sono stretta con te, anzi immedesimata, se siamo già una cosa sola, io ti lascio il mio essere in te e vi prendo il tuo. Quindi vi lascio la mia mente e prendo la tua, vi lascio i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, i miei passi. E io ho detto a Gesù, oh, quanto sarò felice d'ora in poi. Penserò con la tua mente, guarderò coi tuoi occhi, parlerò con la tua bocca, ti amerò col tuo cuore, opererò con le tue mani, camminerò coi tuoi piedi, e se qualche cosa mi accadrà di contrasto, dirò, il mio essere l'ho lasciato in Gesù ed ho preso il suo, andati da Gesù, che vi risponderà per me. Oh, come mi sento beata! Ah, sì, anche la tua beatitudine vi prendo, non è vero, Gesù? Figlia mia, dice Gesù a Luisa il 5 gennaio 1907, volume 7. La vera e soda santità consiste nel ricevere come specialità d'amore divino tutto ciò che all'anima può succedere o fare, fosse anche la cosa più indifferente, come sarebbe se trovasse un cibo gustoso o disgustoso. Specialità d'amore nel gusto, pensando che Gesù produce quel gusto nel cibo, che l'ama fino a darle gusto anche nelle cose materiali. Specialità d'amore nel disgusto, pensando che l'ama tanto che l'ha prodotto quel disgusto per assomigliarla a sé nella mortificazione, dandole lui stesso una monetina da poter offrire a lui. Specialità d'amore divino se è umiliata, se è esaltata, se è sana, se è inferma, se è povera o ricca. Specialità d'amore è il respiro, la vista, la lingua, tutto, tutto, e siccome tutto, tutto deve ricevere come specialità d'amore divino. Essa deve ridare tutto a Dio come uno speciale amore suo, sicché deve ricevere l'onda dell'amor di Dio, e deve dare a Dio l'onda dell'amore suo. L'anima dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa, e che le è necessario, lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se prega, dovrebbe dire, è Gesù che vuole pregare, ed io prego insieme con lui. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare, è Gesù che vuole camminare, è Gesù che vuole prendere cibo, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi, e così di tutto il resto della vita, esclusi gli errori. Così l'anima non solo farà tutto perché lo voglio io, ma, perché lo voglio fare io, mi necessitano a me proprio. Ora, continua Luisa, un giorno stavo lavorando, e stavo pensando, come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me? È Lui proprio che vuole fare questo lavoro? E Gesù, io proprio. Sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. Figlia mia, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare il legno, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe? E mentre ciò facevo, con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre le chiamavo all'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo, dando a ciascuno un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri, e se vedevo che li facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth di loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. La vita nascosta che feci in Nazareth non viene calcolata dagli uomini, mentre non poteva far loro più bene di quella, dopo la passione, perché abbassandomi io a tutte quelle piccole azioni e a quegli atti che gli uomini esercitano nella vita giornaliera, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, ecc. Atti tutti di cui nessuno può fare a meno, io facevo scorrere nel loro anime una monetina divina e di prezzo incalcolabile. Sicché, se la passione l'irredense, la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. Vedi, mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue, e mentre lavoro in te, nel medesimo istante, con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quanti altri ne chiamo? Quanti altri ne santifico, altri correggo, altri castigo, ecc. Ora, tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere ed altro, sicché come tu non sei sola, neppure lo sono io nel mio operare. Ti potrei dare io onore più grande? Chi può dire quello che comprendevo, scrive Luisa, e il bene che si può fare a noi e dagli altri, facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi. 14 agosto 1912, volume 11 E ancora, il 20 agosto 1912 Gesù dice a Luisa, volume 11 Nel vedere l'animo operare da sola, mentre standole vicino io la guardo, e vedendola molte volte che non sa fare bene ciò che fa, io sto aspettando che mi chiami e mi dica, voglio fare questa cosa e non so farla, vieni tu a farla insieme con me, e tutto saprò far bene. Per esempio, voglio amare, vieni insieme con me ad amare, voglio pregare, vieni tu a pregare insieme, voglio fare questo sacrificio, vieni tu a darmi la tua forza, che io mi sento debole, e così di tutto il resto, ed io, volentieri e consumo mio piacere, mi presterei a tutto. Io voglio la vera consumazione in te, non fantastica, ma vera, ma in modo semplice ed attuabile. Supponi che ti venisse un pensiero che non è per me, tu devi distruggerlo e sostituirlo col divino, e così avrai fatto la consumazione del pensiero umano e avrai acquistato la vita del pensiero divino. Così, se l'occhio vuol guardare una cosa che mi dispiace o che non si riferisce a me, e l'anima si mortifica, ha consumato l'occhio umano e ha acquistato l'occhio della vita divina, e così il resto del tuo essere. Queste novelle vite divine me le sento scorrere in me, e prendono parte a tutto il mio operare. Amo tanto queste vite, che per amor loro cedo a tutto. 21 maggio 1913, volume 11 Seguiamo ancora il maestro divino nei suoi mirabili insegnamenti. Figlia mia, la vera vita dell'anima fatta nel mio volere non è altro che la formazione della sua vita nella mia, dare la mia stessa forma a tutto ciò che lei fa. Io non faccio altro che mettere in volo nel mio volere tutti gli atti che facevo, sia interni che esterni, mettevo in volo ciascun pensiero della mia mente, il quale, sorvolando su ogni pensiero di creatura, della quale tutto esisteva nel mio volere, si faceva quasi corona di ciascuna intelligenza umana e portava alla maestà del Padre l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione di ogni pensiero creato, e così il mio sguardo, la mia parola, il mio moto, il mio passo. Ora, l'anima, per fare vita nel mio volere, deve dare la forma della mia mente alla sua, la forma del mio sguardo, della mia parola, del mio moto ai suoi. Onde, facendo ciò, perde la sua forma ed acquista la mia, non fa altro che dare continue morte all'essere umano e continua vita alla volontà divina. Così l'anima potrà completare la vita divina della mia volontà in lei, altrimenti non sarà del tutto compiuto questo prodigio, questa forma modellata del tutto sulla mia. E il solo mio volere, che è eterno ed immenso, che fa trovare tutto. Il passato e il futuro lo riduce ad un punto solo, ed in questo solo punto trova tutti i cuori palpitanti, tutte le menti in vita, tutto il mio operato in atto, e l'anima, facendo suo questo mio volere, fa tutto, soddisfa per tutti, ama per tutti e fa bene a tutti e da ciascuno, come se fosse uno solo. Chi mai può giungere a tanto? Nessuna virtù, nessun eroismo, neanche il martirio, può stare di fronte al mio volere. Tutti, tutti restano indietro all'operato nella mia volontà, volume 12, 5 gennaio 1921. Per quanto tempo l'anima sta nella mia volontà, tanto di vita divina può dire che fa sulla terra. Come mi piace quando vedo che l'anima entra nella mia volontà per farvi vita divina. Molto mi piace vedere le anime che ripetono nella mia volontà ciò che faceva la mia umanità in essa. Quando io istituì il sacramento eucaristico e comunicai gli apostoli, io comunicai me stesso nella volontà del Padre, e con ciò non solo riparavo tutto, ma trovando nella divina volontà l'immensità, l'onniveggenza di tutto e di tutti, quindi abbracciavo tutti, comunicavo tutti, e vedendo che molti non avrebbero preso parte al sacramento, ed il Padre offeso che non volevano ricevere la vita, io davo al Padre la soddisfazione, la gloria, come se tutti avessero fatto la santa comunione, dando al Padre per ciascuno la soddisfazione e la gloria d'una vita divina. Anche tu fa la comunione nella mia volontà, ripeti ciò che feci io, e così non solo riparerai tutto, ma darai me stessa a tutti come io intendevo di darmi a tutti, e mi darai gloria come se tutti si fossero comunicati. Il mio cuore si sente intenerito nel vedere che la creatura, non potendo darmi nulla da sé che sia degno di me, prende le cose mie, le fa sue, imita come l'ho fatto io, e per piacermi me le dà, ed io nel mio compiacimento vo' ripetendo, brava alla figlia mia, hai fatto proprio ciò che facevo io. Gli atti nella mia volontà sono gli atti più semplici, ma perché semplici si comunicano a tutti. Un atto solo nella mia volontà, come luce semplicissima si diffonde in ogni cuore, in ogni opera, in tutti, ma l'atto è uno. Il mio stesso essere, perché è semplicissimo. È un atto solo, ma un atto che contiene tutto, non ha piedi ed è il passo di tutti, non occhio ed è occhio e luce di tutti, do vita a tutto, ma senza sforzo, senza fatica, ma do l'atto di operare a tutti. O nell'anima nella mia volontà si semplifica ed insieme con me si moltiplica in tutti, fa bene a tutti, volume 11, 8 settembre 1916. Ecco che Luisa così si rivolge al suo amato Gesù, il 24 gennaio 1923, volume 15. Mio amato bene, insieme con te voglio seguire tutti gli atti che fece la tua manità nella volontà divina. Dove giungesti tu, voglio giungere anch'io, per fare che in tutti i tuoi atti trovi anche il mio, sicché, come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature, per dare al Padre Celeste la gloria, l'onore, la riparazione per ciascun pensiero di creatura in modo divino, e suggellare con la luce, con la grazia della tua volontà ciascun pensiero di esse, così anch'io voglio percorrere ciascun pensiero, dal primo all'ultimo che avrà vita nelle menti umane, per ripetere ciò che sta fatto da te, anzi voglio unirmi con quelli della nostra Celeste Mamma, che mai lasciò dietro, ma sempre corse insieme con te. Il 14 agosto 1917, volume 12 Gesù, spiegando a Luisa l'operato che la sua santissima manità fece su questa terra, dice, io non facevo altro che darmi in balia della volontà del Padre. Sì che, se pensavo, pensavo nella mente del Padre, se parlavo, parlavo nella bocca e con la lingua del Padre, se operavo, operavo nelle mani del Padre. Anche il respiro respiravo in Lui, e tutto ciò che facevo andava ordinato come Lui voleva. Sì che potevo dire che la mia vita la svolgevo nel Padre ed io ero il portatore del Padre, perché tutto chiuso nel suo volere e niente facevo da me. Il punto mio principale era la volontà del Padre, perché non badavo a me stesso, né per le offese che mi facevano io interrompevo il mio corso, ma sempre più volavo al mio centro, e allora la mia vita naturale finì, quando in tutto compii la volontà del Padre. Così tu, figlia mia, se ti darai in balia della mia volontà, non avrai più pensiero di nulla. Ora, per ubbidire, continuo a scrivere Luisa, voglio dire due parole sulla diversità del vivere rassegnati alla Divina Volontà e il vivere nel Divino Volere. Prima, vivere rassegnato, secondo il mio povero parere, significa rassegnarsi in tutto alla volontà divina, tanto nelle cose prospere quanto nelle avverse, guardando in tutte le cose la Divina Volontà, l'ordine delle disposizioni divine che tiene su tutte le creature, e che neppure un capello può cadere dal nostro capo se il Signore non lo vuole. Mi sembra un buon figlio, che va dove vuole il Padre, soffre ciò che vuole il Padre, ricco o povero, gli è indifferente, è contento solo di essere ciò che vuole il Padre. Se riceve o chiede ordine di andare a qualche parte, per il disimpegno di qualche affare, lui va solo perché lo ha voluto il Padre, ma mentre dura il tempo deve prendere ristoro, fermarsi per riposare, prendere il cibo, trattare con persone, quindi deve mettere molto del suo volere, adonta che va perché lo ha voluto il Padre, ma in tante cose si trova nell'occasione di farne da se stesso, quindi può stare i giorni, i mesi, lontano dal Padre, senza essergli specificata in tutte le cose la volontà del Padre. Sicché, a chi vive rassegnato al Divin volere è quasi impossibile non usare la sua volontà. Sarà un buon figlio, ma non avrà in tutto i pensieri, le parole, la vita del Padre, ritrattato del tutto in lui, perché dovendo andare, ritornare, seguire, trattare con altri, Già l'amore resta spezzato, perché solo l'unione continua fa crescere l'amore e mai si spezza, e la corrente della volontà del Padre non è in comunicazione continua con la corrente della volontà del Figlio, e in quegli intervalli il Figlio può abituarsi a fare la propria volontà. Tuttavia credo che è il primo passo alla santità, secondo, vivere nel Divin volere. Vorrei le mani del mio Gesù per scrivere ciò. Ah, lui solo potrebbe dire tutto il bello, il buono e il santo del vivere nel Divin volere. Io, né sono capace né ho molti concetti nella mente, mi mancano i vocaboli mio Gesù, riversati nella mia parola, ed io dirò quello che posso. Vivere nel Divin volere significa in modo inseparabile, non fare nulla da sé, perché innanzi al Divino volere l'anima si sente incapace di tutto, non chiede ordini né riceve, perché si sente incapace di andare da sola, e dice, Se vuoi che faccia, facciamo insieme, e se vuoi che vada, andiamo insieme, si che fa tutto ciò che fa il Padre. Se il Padre pensa, fa suoi pensieri del Padre e non fa un pensiero in più di quelli del Padre. Se il Padre guarda, se parla, se opera, se cammina, se soffre, sa ama, anch'essa guarda ciò che guarda il Padre, ripete le parole del Padre, opera nelle mani del Padre, cammina coi piedi del Padre, soffre le stesse pene del Padre, vive non fuori ma dentro del Padre, sicché è il riflesso e il ritratto perfetto del Padre, ciò che non è per chi vive solo rassegnato. Questa figlia è impossibile trovarla senza del Padre, né il Padre senza di lei, e non solo esternamente, ma tutto il suo interno si vede come intrecciato con l'interno del Padre, trasformato, sperduto tutto tutto in Dio. Oh, i voli rapidi di questa figlia nel volere divino! Questo volere divino è immenso, in ogni istante circola in tutti, dà vita e ordine a tutto, e l'anima, spaziando in questa immensità, vola a tutti, eccita tutti, ama tutti, ma come aiuta ed ama lo stesso Gesù, ciò che non può fare chi vive solo rassegnato. Sì che a chi vive nel divino volere gli riesce impossibile fare da solo, anzi sente nausea del suo operato umano, ancorché santo, perché nel divino volere le cose, anche le più piccole prendono altro aspetto, acquistano nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina, si moltiplicano all'infinito, e in un istante l'anima fa tutto, e dopo che ha fatto tutto dice, non ho fatto nulla, ma l'ha fatto Gesù, e questo è tutto il mio contento, che misera qual sono, Gesù mi ha dato l'onore di tenermi nel divino volere, per farmi fare ciò che ha fatto lui. Sì che il nemico non può molestare questa figlia, se ha fatto bene o male, poco o molto, perché tutto l'ha fatto Gesù e le ha insieme con Gesù. Questa è la più pacifica, non è soggetta ad ansietà, non ama nessuno ed ama tutti, ma divinamente. Si può dire che è la ripetitrice della vita di Gesù, l'organo della sua voce, il palpito del suo cuore, il mare delle sue grazie. In questo solo, credo, consiste la vera santità, afferma ancora Luisa, tutte le altre cose sono ombre, larve, spettri di santità. Nel volere divino le virtù prendono posto nell'ordine divino, invece, fuori di esso, nell'ordine umano, sono soggette a stima propria, a vanagloria, a passioni. Oh, quante opere buone, quanti sacramenti frequentati sono da piangersi innanzi a Dio e da ripararsi, perché vuoti del divino volere, quindi senza frutti. Volesse il cielo che tutti comprendessero la vera santità. Oh, come tutte le altre cose scomparirebbero. Quindi, molti si trovano sulla via falsa della santità, molti la mettono nelle pie pratiche di pietà, e guai a chi li sposta. Oh, come si ingannano! Se i loro voleri non sono uniti con Gesù e anche trasformati in Lui, che è continuata preghiera, con tutte le loro pie pratiche la loro santità è falsa, e si vede che queste anime passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti, a seminare discordi ed altro. Oh, come è disonorante questa specie di santità! Altri la mettono nell'andare in chiesa, nell'assistere a tutte le funzioni, ma il loro volere è lontano da Gesù, e si vede che queste anime poco si curano dei propri doveri, e se vengono impedite si arrabbiano, piangono, così che la loro santità se ne va per aria, se ne lamentano, disubbidiscono, sono le piaghe delle famiglie, oh, che falsa santità! Altre la mettono nelle confessioni frequenti, nelle direzioni spirituali minute, nel fare scrupolo di tutto, ma poi non si fanno scrupolo che il loro volere non corre insieme col volere di Gesù, e guai a chi le contraddice queste anime sono come i palloni gonfi, che appena si fa un piccolo buco, esce l'aria e la loro santità va in fumo e va a terra. Questi poveri palloni hanno sempre da dire, sono al più portati alla mestizia, vivono sempre nel dubbio e quindi vorrebbero un direttore per loro, che in ogni piccola cosa li consigli, li rapacifichi, li consoli, ma subito sono più agitate di prima povera santità, come è falsificata. Vorrei le lacrime del mio Gesù per piangere insieme con lui su queste santità false, e far conoscere a tutti come la vera santità sta nel far la divina volontà e vivere nel divino volere. Questa santità getta le radici tanto profonde che non c'è pericolo che oscilli, perché riempie terra e cielo e dovunque trova il suo appoggio. È ferma, non è soggetta ad incostanze, a difetti volontari, attenta ai propri doveri, è la più sacrificata e distaccata da tutti e da tutto, anche dalla stessa direzione spirituale, e siccome le radici sono profonde, si eleva tanto in alto, che i fiori e i frutti sbocciano nel cielo, ed è tanto nascosta in Dio, che la terra poco o nulla ne vede di quest'anima. Il volere divino la tiene assorbita in sé, solo Gesù è la vita, l'artefice, la forma della santità di questa invidiabile creatura. Non ha niente di suo, ma tutto è in comune con Gesù. La sua passione è il divino volere, la sua caratteristica è il volere del suo Gesù e il Fiat è il suo motto continuo. Invece, la povera e falsa santità dei palloni è soggetta a continue incostanze, e mentre pare che i palloni della loro santità si gonfino tanto che pare che volino per aria e ad una certa altezza, tanto che molti e gli stessi direttori ne ristano ammirati, subito ne ristano disingannati. Per far sgonfiare questi palloni basta un'umiliazione, una preferenza, usata dal direttore a qualche altra persona, credendo ciò un furto per loro, credendosi le più bisognose. Quindi, mentre fanno scrupolo delle sciocchezze, giungono poi a disubbidire, e la gelosia è il tarlo di questi palloni, che erodendoli il bene che fanno, li va tirando l'aria, e il povero pallone si sgonfia e cade a terra e giunge ad imbrattarsi di terra. E allora si vede la santità che c'era nel pallone, e che cosa si trova? Amor proprio, risentimento, passioni nascoste sotto aspetto di bene, come per avere occasione di dire qualcosa si sono fatti il trastullo del demonio, sicché di tutta la loro santità non si è trovato altro che una massa di difetti, apparentemente mascherati di virtù e poi, chi può dire tutto? Lo sa solo Gesù i mali peggiori di questa santità falsa, di questa vita devota senza fondamento, perché appoggiata sulla falsa pietà. Queste false santità sono le viti spirituali senza frutto, sterili, che sono causa di far piangere, chissà quanto, il mio amabile Gesù, sono il malumore della società, il cruccio degli stessi direttori, delle famiglie. Si può dire che portano presso di loro un'aria malefica che nuoce a tutti. Oh, com'è ben diversa la santità dell'anima che vive nel volere divino! Queste anime sono il sorriso di Gesù, sono lontane da tutti, anche dallo stesso direttore spirituale, solo Gesù è tutto per loro, sicché nessuno si cruccia per loro. L'aria benefica che posseggono in balsamo a tutti, sono l'ordine e l'armonia di tutti. Gesù, geloso di queste anime, si fa attore e spettatore di ciò che fanno, neppure hanno un palpito, un respiro, un pensiero, che lui non regoli e domini. Gesù tiene quest'anima tanto assorbita nel divino volere, che a stento può ricordarsi che vive nell'esilio. Nel vivere questa meravigliosa vita divina, nelle sue effusioni di amore verso il suo Gesù, Luisa così si esprime, Mio Gesù, se mi fosse possibile, vorrei darti il bacio di tutte le creature, così contenterei il tuo amore, col portarle tutte a te. E Gesù, figlia mia, se vuoi darmi il bacio di tutti, baciami nella mia volontà. Perché la mia volontà, contenendo la virtù creatrice, contiene la potenza di moltiplicare un atto di tanti atti per quanti se ne vogliono, e così mi darai il contento come se tutti mi baciassero e tu avrai il merito come se da tutti mi avessi fatto baciare, e tutte le creature ne avranno gli effetti a seconda delle proprie disposizioni. Così, figlia mia, se tu desideri amarmi per tutti, il tuo amore scorrerà nella mia volontà, se lo farai in essa, e riempiendo la mia volontà il cielo e la terra, mi sentirò ripetere il tuo ti amo in cielo, intorno a me, dentro di me, in terra, e da tutti i punti si moltiplicherà per quanti atti può fare la mia volontà. Quindi, può darmi la soddisfazione dell'amore di tutti, perché la creatura è limitata ed è finita, mentre la mia volontà è immensa ed infinita. Come si possono spiegare quelle parole dette da me nel creare l'uomo? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Come mai la creatura, tanto inabile, poteva rassomigliarmi ed essere mia immagine? Solo nella mia volontà poteva giungere a questo, poiché facendo la sua viene ad operare alla divina, e con la ripetizione di questi atti divini viene ad assomigliarsi a me, a rendersi mia perfetta immagine. Succede come al fanciullo che col ripetere gli atti che vede nel maestro, gli si assomiglia. Sì che la sola cosa che far assomigliare la creatura a me, è la mia volontà. Perciò ho tanto interesse che la creatura, facendo la sua, compia il vero scopo per cui è stata creata volume 11, 24 agosto 1915. Il 18 marzo 1917, volume 12 Luisa scrive, Stavo pregando, fondendomi tutta in Gesù, e volevo il mio potere ogni pensiero di Gesù per poter avere vita in ogni pensiero di creatura, per poter riparare con lo stesso pensiero di Gesù, e così di tutto il resto. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, la mia umanità sulla terra non faceva altro che concatenare ogni pensiero di creatura coi miei, sì che ogni pensiero di creatura si ripercuoteva nella mia mente, ogni parola nella mia voce, ogni palpito nel mio cuore, ogni azione nelle mie mani, ogni passo nei miei piedi, e così di tutto il resto, con ciò davo al Padre riparazioni divine. Ora tutto ciò che feci in terra, lo continuo nel cielo, e come le creature pensano, i loro pensieri si riversano nella mia mente, come guardano, sento i loro sguardi nei miei. Sì che passa tra loro e me come elettricità continua, come le membra sono in continua comunicazione col Capo, e dico al Padre. Padre mio, non sono solo io che ti prego, che riparo, che soddisfo, che ti plago, ma ci sono altre creature che fanno in me ciò che faccio, anzi suppliscono con loro patire alla mia umanità, che gloriosa è incapace di patire. L'anima col fondersi in me ripete ciò che feci e continuo a fare. Ma qual sarà il contento di queste anime che hanno fatto la loro vita in me, con l'abbracciare insieme con me tutte le creature, tutte le riparazioni, quando saranno con me in cielo? La loro vita la continueranno in me, e come le creature penseranno o mi offenderanno coi pensieri, questi si ripercuoteranno nella loro mente, e continueranno le riparazioni che fecero in terra. Saranno insieme con me, innanzi al trono divino, le sentinelle d'onore, e come le creature mi offenderanno in terra, loro faranno gli atti opposti in cielo, vigileranno il mio trono, avranno il posto d'onore, saranno quelle che più mi comprenderanno, le più gloriose, la loro gloria sarà tutta fusa nella mia e la mia nella loro. Sì che la tua vita in terra sia tutta fusa nella mia, non fare atto che non lo farai passare in me. Ed ogni qualvolta che tu ti fonderai in me, io riverserò in te nuova grazia e nuova luce e mi farò vigile sentinella del tuo cuore per tenerti lontano qualunque ombra di peccato, ti custodirò come la mia stessa umanità, comanderò agli angeli che ti facciano corona, affinché resti difesa da tutto e da tutti. Quando l'anima fondendosi fa i suoi atti immediati con me, allora mi sento tanto tirato verso di essa, che faccio insieme ciò che essa fa e trasmuto in divino l'operato della creatura volume 12, 28 marzo 1917. Vivere nel mio volere è scomparire, è entrare nell'ambito dell'eternità, è penetrare nell'onnipotenza dell'eterno, nella mente increata, è prendere parte a tutto, per quanto a creatura è possibile, e da ciascun atto divino, è fruire anche stando in terra di tutte le qualità divine, è odiare il male in modo divino, è quello spandersi a tutti senza esaurire, perché la volontà che anima questa creatura è divina, è la santità non ancora conosciuta, che farò conoscere, che metterà l'ultimo ornamento ed il più bello, il più fulgido di tutte le altre santità e sarà corona e compimento di tutte le altre santità a volume 12, 8 aprile 1918. L'anima con l'unirsi con me ed immedesimarsi con me, si unisce con la mia mente, e così tante vite di pensieri santi produce nelle menti delle creature, come si unisce coi miei occhi, così produce nelle creature tante vite di sguardi santi, così, se si unisce con la mia bocca, darà vita alle parole, se si unisce al mio cuore, ai miei desideri, alle mie mani, ai miei passi, così ad ogni palpito darà una vita, vita ai desideri, alle azioni, ai passi ma vite sante, perché contenendo in me la potenza creatrice, insieme con me l'anima crea fa ciò che faccio io. Ora, questa unione con me, parte per parte, mente per mente, cuore per cuore, ecc., produce in te, in grado più alto, la vita della mia volontà e del mio amore. Ed in questa volontà viene formato il Padre, nell'amore lo Spirito Santo, e dall'operato, dalle parole, dalle opere, dai pensieri e da tutto il resto che può uscire da questa volontà e da questo amore, viene formato il Figlio, ed ecco la Trinità nelle anime. Sicché, se dobbiamo operare, è indifferente operare nella Trinità in cielo, o nella Trinità delle anime in terra. Volume 11, 12 giugno 1913. Il 28 novembre 1906, volume 7. Luisa scrive, Ho visto il Benedetto Gesù e pareva che si trasformasse tutto in me, in modo che se io respiravo, sentivo il suo respiro nel mio, se io muovevo un braccio, sentivo muovere il suo nel mio e così di tutto il resto. Mentre ciò faceva, mi ha detto, Figlia diletta mia, vedi in che stretta unione sto con te? Così voglio te, tutta stretta e unita a me, e questo, non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi solo, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità, come se uscisse da me il tuo operato, in modo che dovresti essere tu non altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera, si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina, e questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti con questa intenzione, di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità. Perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me, quindi li santificavo, li divinizzavo, li paravo. Onde, facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e da contenere tutte le creature in te ed il tuo operato si diffonderà a bene di tutti, sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Figlia mia, il mio amore per la creatura è grande. Vedi come la luce del sole invade la terra? Se tu potessi fare di quella luce tanti atomi, in quegli atomi di luce sentiresti la mia voce melodiosa, e ti ripeterebbero l'uno presso l'altro, ti amo, ti amo, ti amo, in modo che non ti darebbero tempo a numerarli, resteresti affogata nell'amore, e di fatti ti amo, ti amo, ti dico nella luce che riempie il tuo occhio, ti amo nell'aria che respiri, ti amo nel sibilo del vento che percuote il tuo udito, ti amo nel calore e nel freddo che sente il tuo tatto, ti amo nel sangue che scorre nelle tue vene, ti amo, nel palpito del tuo cuore ti dice il mio palpito, ti amo, ti ripeto in ogni pensiero della tua mente, ti amo, in ogni azione delle tue mani, ti amo, in ogni passo dei tuoi piedi, ti amo, in ogni parola, perché niente succede dentro e fuori di te se non concorre un mio atto di amore verso di te, sicché un mio ti amo non aspetta l'altro. E i tuoi ti amo, quanti sono per me? Volume 11, 23 aprile 1912 Avendo fatta la comunione, stavo dicendo a Gesù, ti amo, e lui mi ha detto, figlia mia, vuoi amarmi davvero? Dì, Gesù, ti amo con la tua volontà e siccome la mia volontà riempie cielo e terra, il tuo amore mi circonderà ovunque e il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli e fin nel profondo degli abissi. Così, se vuoi dire, ti adoro, ti benedico, ti lodo, ti ringrazio, lo dirai unita con la mia volontà e riempirà i cieli e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi, di ringraziamenti, nella mia volontà. Queste sono cose semplici, facili ed immense. La mia volontà è tutto, tanto che gli stessi miei attributi, che sono? Un atto semplice della mia volontà. Sicché se la giustizia, la bontà, la sapienza, la fortezza, fanno il loro corso, la mia volontà le precede, le accompagna, le mette in atto di operare, insomma, non si spostano un punto dal mio volere. Perciò, chi prende la mia volontà prende tutto, anzi può dire che la sua vita è finita, finite le debolezze, le tentazioni, le passioni, le miserie, perché in chi fa il mio volere tutte le cose perdono i loro diritti, perché il mio volere tiene il primato su tutto e diritto a tutto volume 11, 2 ottobre 1913. Diletta mia, entra in me, vieni a nuotare nel mare immenso del mio volere, del mio amore, nasconditi nel volere e nell'amore increato del tuo creatore. Il mio volere ha il potere di rendere infinito tutto ciò che entra nella mia volontà e di innalzare e trasformare gli atti delle creature in atti eterni. Perché ciò che entra nella mia volontà acquista l'eterno, l'infinito, l'immenso, perdendo ciò che è a principio, ciò che è finito, la piccolezza. Qual è il mio volere? Tali rende gli atti loro. Perciò dì, grida forte ti amo nel mio volere, io sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore creato nascosto nell'amore increato, e mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito, immenso, quindi, un amore degno di me, che mi supplicce e può supplirmi nell'amore di tutti. Volume 12, 8 gennaio 1919 Sperditi in me, la tua preghiera sperdila nella mia, in modo che la tua e la mia siano una sola preghiera e non si conosca quale sia la tua e quale la mia, le tue pene, le tue opere, il tuo volere, il tuo amore, sperdili tutti nelle mie pene, nelle mie opere, ecc., in modo che si mescolino le une con le altre da formare una sola cosa, tanto che tu potrai dire, ciò che è di Gesù è mio, e Dio, ciò che è tuo è mio. Con tuo guadagno grandissimo e con sommo mio contento, ripetimi spesso in ciò che fai, Gesù, l'ho verso in te, per poter fare non la mia voglia, ma la tua, ed io ho subito verso il mio agire in te. Volume 12, 31 gennaio 1918 Il 13 febbraio 1919, volume 12 Gesù rivolge, per primo a Luisa e poi a tutti noi, il suo ardente invito, vuoi venire nella mia volontà a sostituirti in modo divino per tanti atti non fatti dagli altri nostri fratelli, per tanti altri fatti umanamente, e per altri atti santi, sì, ma umani e non fatti in ordine divino? Io ho fatto tutto nell'ordine divino, ma non sono contento ancora, voglio che la creatura entri nella mia volontà e in modo divino venga a baciare i miei atti, sostituendosi a tutto come feci io. Perciò venga, venga, la sospiro, la desidero tanto che mi metto come in festa quando vedo che la creatura entra in questo ambiente divino e, moltiplicandosi insieme con me, si moltiplica in tutti, ed ama, ripara, sostituisce tutti e per ciascuno in modo divino. Le cose umane non le riconosco più in lei, ma tutte cose mie. Il mio amore sorge e si moltiplica, le riparazioni si moltiplicano all'infinito, le sostituzioni sono divine che gioia, che festa. Gli stessi santi si uniscono con me e fanno festa, e aspettano con ardore che una loro sorella sostituisca i loro stessi atti, santi nell'ordine umano, eppure non nell'ordine divino, mi pregano che subito faccia entrare la creatura in questo ambiente divino e che tutti i suoi atti siano sostituiti solo col volere divino e con l'impronta dell'Eterno. L'ho fatto io per tutti, ora voglio che lo faccia tu per tutti. Io sono entrata in Gesù, continuo a scrivere Luisa, e facevo ciò che faceva Gesù. Oh, come vedevo con chiarezza ciò che Gesù mi aveva detto. Con lui restavo moltiplicata in tutto, anche nei santi e Gesù ha soggiunto, un atto solo di mia volontà, e anche un istante, è pieno di vita creatrice, e chi contiene questa vita può dar vita in quell'istante a tutto e conservare tutto. Sicché, da quest'atto solo della mia volontà il sole riceve la vita della luce, la terra la conservazione, le creature la vita. Io ho la mia corte in cielo, prosegue Gesù, e ne voglio un'altra sulla terra, indovina tu, chi formerà questa corte? E Luisa risponde. Le anime che vivranno nel tuo volere è Gesù. Brava, sono proprio loro che, senza l'ombra dell'interesse della santità personale, ma divina, vivranno a bene dei loro fratelli e faranno un solo eco col cielo. Il 6 dicembre 1917, volume 12 Luisa scrive, dopo aver ricevuto Gesù in sacramento stavo dicendogli, ti bacio con bacio del tuo volere. Tu non sei contento se ti do solo il mio bacio, ma vuoi il bacio di tutte le creature, ed io perciò ti do il bacio nel tuo volere, perché in esso trovo tutte le creature, e sulle ali del tuo volere prendo tutte le loro bocche e ti do il bacio con bacio del tuo amore, affinché non ti baci col mio amore, ma col tuo stesso amore, e tu senta il contento, le dolcezze, la suavità del tuo stesso amore sulle labbra di tutte le creature, in modo che, attirato dal tuo stesso amore, ti costringa a dare il bacio a tutte le creature. O nel mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, quanto mi è dolce vedere, sentire l'anima nel mio volere. Senza che lei se ne avveda si trova nelle altezze dei miei atti, delle mie preghiere, del modo come facevo io stando su questa terra, si mette quasi al mio livello. Io, nei miei più piccoli atti, racchiudevo tutte le creature passate, presenti e future, per offrire al Padre atti completi a nome di tutte le creature. Nemmeno mi sfuggì un respiro delle creature che non lo racchiudessi in me. Altrimenti il Padre avrebbe potuto trovare eccezioni nel riconoscere le creature e tutti i loro atti, perché non fatti da me e usciti da me, avrebbe potuto dirmi, non hai fatto tutto per tutti, la tua opera non è completa. Non posso riconoscere tutti, perché non li hai rincorporati in te, ed io voglio conoscere solo ciò che hai fatto tu. Perciò, nell'immensità del mio volere, del mio amore e potere, feci tutto per tutti. Onde, come mai possono piacermi le altre cose, per quanto belle, fuori dal mio volere? Sono sempre atti bassi e umani e determinati, invece, gli atti nel mio volere sono nobili, divini, senza termine, infiniti. Qual è il mio volere? Sono simili ai miei ed io do loro lo stesso valore, amore e potere dei miei stessi atti, li moltiplico in tutti, li estendo a tutte le generazioni, a tutti i tempi. Che mi importa che siano piccoli? Sono sempre i miei atti che si ripetono, e basta. Figlia mia, prega, ma prega come prego io, cioè, riversati tutta nella mia volontà, e in questa troverai Dio e tutte le creature, le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti, e deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni, per darle onore, e i cattivi per ripararli con la santità, potenza ed immensità della divina volontà, a cui niente sfugge. Questa fu la vita della mia umanità sulla Terra. Per quanto sante essa fosse, ebbi bisogno di questo divin volere, per dare completa soddisfazione al Padre e redimere le umane generazioni, perché solo in questo divin volere io trovavo tutte le generazioni, passate, presenti e future, e tutti i loro pensieri, parole, atti, eccetera, come in atto. E in questo santo volere, senza che nulla mi sfuggisse, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente e per ciascune in particolare io mi portavo innanzi alla Maestà Suprema e li riparavo, e in questa stessa volontà scendevo nella mente di ciascuna creatura, dando loro il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze. Nei miei sguardi prendevo gli occhi di tutte le creature, nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti i loro movimenti, nelle mie mani le loro opere, nei miei piedi i loro passi, nel mio cuore gli affetti e desideri, e facendoli come miei, in questo divin volere la mia umanità soddisfaceva il Padre e mettevo in salvo le povere creature, e il Divin Padre ne restava soddisfatto. Non poteva rigettarmi, essendo il Santo volere lui stesso, avrebbe forse rigettato se stesso? No, certo, molto più che in questi atti trovava santità perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi ed eterni, potenza invincibile. Questa fu tutta la vita della mia umanità sulla Terra, per continuarla nel Cielo e nel Santissimo Sacramento. Ora, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama, tutto è possibile, unito con me. Nella mia volontà, prega e porta innanzi alla Maestà Divina i pensieri di tutti nei tuoi pensieri, nei tuoi occhi gli sguardi di tutti, nelle tue parole, nei movimenti, negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli, per ripararli, per impetrare per loro luce, grazia, amore. Nel mio volere ti troverai in me ed in tutti, farai la mia vita, pregherai con me, e il Divin Padre ne sarà contento, e tutto il Cielo dirà, chi ci chiama sulla Terra? Chi è che vuole stringere in sé questo santo volere, racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può ottenere la Terra, facendo scendere il Cielo in Terra? Volume 11, 3 maggio 1916. Stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno, scrive Luisa il 9 gennaio 1920, volume 12. E portandomi innanzi alla Maestà Suprema dicevo, Eterna Maestà, vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo delle future, presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente. Ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare le adorazioni di tutti, vengo a riconoscerti a nome di tutti come creatore e dominatore assoluto, di tutto, vengo ad amarti per tutti e per ciascuno, vengo a ricambiarti in amore per tutti a motivo di ogni cosa creata, in cui ha messo tanto amore, che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore, ma io nel tuo volere trovo questo amore, e volendo che il mio amore, come gli altri atti, sia completo, pieno e per tutti, sono venuta perciò nel tuo volere, dove tutto è immenso ed eterno, e trovo amore per poterti amare per tutti. Quindi, ti amo per ogni stella che hai creato, ti amo per quanti raggi di luce e per quanta intensità di calore hai messo nel cuore,